Musica 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 Ateniamo al primo giorno! Un bel applauso! Musica 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 L'hanno sbloccata, uno da zero. 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 C'è un risotto! E parte. Chi la scuterà? E' un'altra zona! E' un'altra zona! Poi, l'hanno sbloccata, un'altra zona. Riadilla a giocare! E' un'altra zona! E' un paio che viene portato fuori dai neri. E' un problema... Eccomi! ...degomis! Purezza secondo Germano! Inizio il mano! Molto in attacca! Inizio il palco! Inizio il porto! Inizio il porto! Un tito che è il campionato! Siamo 6-1 Il stesso lavoro che vinta al petto del posto! Aprendo! Aprendo! Inizio! Inizio il porto! Aprendo il porto! Aprendo il porto! Qui c'è da qui è? Qui c'è da una dimension? N'un non mi guarda la mia face Quando sono di solito! Qui c'è da un'altra volta! Allora, qui c'è il porto! Il porto il porto! Il porto il porto il porto! Il porto il porto il porto! Allora, veteci e veteci! C'è partì! Spera! Spera! Ok! Spera! 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 Spera haen! Spera! Grazie a tutti! 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 4, 3, 2, 1... Grazie a tutti! 3, 2, 1... Here we go! 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1, 2, 1... 1, 2, 1, 2, 1...